e beh a tutti ragazzi qui oggi tornati in questo nuovo video e oggi siamo su The Sims e regà nello scorso video vi siete lamentati anche perché non avete sentito il mio audio ma era una presentazione senza farvi sentire la mia voce e quindi è così e quindi regà questo qui è il gioco The Sims questo è il nostro personaggio quindi a volte voi si sono lamentati io mi scuso pensavo che ero una idea anche carina niente regà cominciamo a usare questo gioco e un attimo allora che devo fare qua? ah ok prossimi premi quindi regà io non so benissimo cosa una mansione attiva dov'è? richiedi devo fare dov'è? ottieni ok ah e quindi ce l'abbiamo ok ok quindi andiamo qui vediamo un attimo cosa dobbiamo fare aspetta meno vediamo aspettare ah ok devo andare all'altra casa ah ho capito vediamo qui che c'è posto di lavoro stanzione anti ingegno stipendi o requisiti ok costruiamo regà quindi iniziamo subito qui mancano 30 secondi devo andare qui ora e usiamo ma che devo usare? ah ok ho già fatto quindi regà qui devo aspettare un'ora per prendere accettiamo subito regà il lavoro ah regà si sta trasferendo qualcuno nella casa accanto figo regà quindi si regà restiamo casa ok quindi mancano 4 minuti usa devo sempre usare sto qua grazie 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 8v questo regalo me lo direte qua nei commenti no? quindi regalo comunque che cavolo è? un regalo? c'è un regalo? prendi? no no ma non ho capito regalo però c'è non ho capito che devo farlo ora eh ma non... no sciuppare o no grazie allora regalo andiamo torniamo a casa nostra ok e quindi ora regalo cioè dov'è il mio sim? scusate allora lui è al lavoro ho capito ma non ho capito questo dov'è? no a Nicola devo chiamarlo eccolo ok vai al regalo no lui l'ho sbagliato a questo qui ah ok apri il regalo no regalo sto capendo ne apriamo che figata che cos'è non ho capito ah ok raga queste chiavi ce le teniamo per poi aprire la scatola della fortuna raga io spero che questo video vi sia piaciuto se fosse così un po' quali sono su commentate e condividete questo video iscrivetevi al canale e io vi saluto con Nicola proprio ora continuiamo bene e noi ci vediamo al prossimo video bella ragazzi ciao ciao